ciao ragazzi finalmente è arrivato un pacco vedete il po chissà cosa ci sarà non mai credo che chi conosce questo simbolo sabbia già che cosa ci sia guardate un po contessa andiamo un po sono gli attacchi guardate che precisione guardate che spettacolo sono gli attacchi per l'ottica da battuta il magnus della lega ma io vorrei farvi vedere quando te li mandano sono completi chiavi soprattutto soprattutto io non sapete uso il cosiddetto attacco a code di rondine eccolo qui quindi adesso abbiamo da fare per montarla sulla minchester vulcan e così la testiamo con l'ottica da battuta e vi darò le mie impressioni tra ottica e punto rosso e come dico sempre viva la caccia dei nostri cani alla prossima ciao